Musica Sosta idiota vietata Le porte sono bloccate Dovete trovare tutte le chiavi Nooo Gesù Sfida di guida Dove devi prendere tutti gli oggetti Musica Le uscite alla strada principale sono bloccate Bloccata E ora come usciamo? Menando le mani La tavoletta con l'hamburger auto E spacchiamo tutto Ovviamente No Patrick Per farlo ci servirebbe Un super crabby patty deluxe E noi abbiamo solo quello normale Potete aprire le porte trovando le chiavi sul tracciato Eh speriamo di prenderle tutte allora Perché sono sicuro che siano mancabili Ah No aspetta E' di nuovo la sezione in cui Ah ma allora Ah ma io posso fare il giro Ok Ok calmi tutti Facciamolo Nel modo giusto Evitiamo le bombe Ecco qua Prendiamo il nos Cos'è sta roba? Boh aspetta Ok le palle di fieno possiamo romperle Ah è petrolio Vabbè quelle da uno lasciamo di perdere Allora aspetta un attimo Io mi posso avvicinare No Cioè però guarda quanti punti cazzo Ne valgono la pena? Non lo so In teoria si sai Ecco qua Allora Dobbiamo trovare le chiavi Io Prima di avanzare mi faccio un giretto Mi sta bene Dobbiamo fare attenzione agli spuntoni Guarda E da dove veniamo? Zitto Patrick Ok Ecco qua Io giro tutto tutto Perché non si sa mai Ci sia nascosto qualcosa qualcosa In ogni caso Giusto per antipatia Io gli rompo le moto a tutti Ecco qua Prendiamo tutto il nos Che vediamo No vabbè Non ne vale la pena Ok Credo di aver capito cosa dobbiamo fare Allora Siamo impantanati Ecco qua Due chiavi Qui abbiamo uno stop Ma è effettivo? Posso passare? Ah posso passare Allora Grazie Fanculo la legge Giusto? Abbiamo mancatissimo Il forziere Taffanculo il gioco Salsa piccante Ok Lì c'è un'altra chiave Non fa niente Va benissimo Vediamo se mi respawna Siamo per caso all'inizio? Sì? No aspetta Non dirmi che mi hai tolto tutte le chiavi Mi ha tolto tutto il nos Ah però le macchie di petrolio ti fanno solo scivolare Aspetta Ok quindi morire Non è convenientissimo Dunque Dobbiamo fare un po' più di attenzione Lì c'è un'altra chiave comunque Ok Risaliamo sul trattorino e andiamoci A prendere Il forziere Ecco qua Sì 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 Come se potessi fermarmi Grazie E via Dai ma l'ha mancato di nuovo E stava andando normale E stava andando normale adesso Ma che palle Ah Fuck Vabbè Vabbè Ecco una chiave Sai cosa facciamo? Se riusciamo dopo Lo facciamo un pelo più piano Comunque siamo a tre chiavi già eh Spero solamente di poter tornare indietro Ah Perfetto Questa è la fine Ok Aspetta un attimo Ma la fine è anche la partenza quindi Sì come vuoi Spongebob Io giro dove voglio Va bene Giro dove voglio Come voglio Quando lo voglio E infatti c'è un forziere Pensa un po' Vai contro mano E cosa ti trovi? Sì sì Direzione sbagliata Come vuoi Adesso Andiamo a prendere Quel maledettissimo forziere Col cavolo che lo lasciamo indietro Allora Una chiave è qui Quindi dobbiamo trovare il modo di proseguire Riproviamo a salire per l'ennesima volta qua sopra E vediamo se ce la facciamo No Lo saltiamo completamente Quanto devo andare pianissimo Ho sentito qualcosa rompersi dietro di noi Ma Scusami Da dove è apparso questo? Scusami La chiave me la prendi in automatico? Vabbè guarda E il forziere invece lo lascia lì Guarda Va bene così Non ho nient'altro da aggiungere ormai Qua c'è l'ultima chiave magari Ah aspetta L'ultima chiave Esatto Non era No L'ultima chiave forse è di là Ok in totale mi manca solamente di passare da lì Io però Da qui e anche Da questa parte Prima dobbiamo prendere il forziere Assolutamente Me ne frega niente Eh che cavolo Finalmente è andata E ora finalmente possiamo proseguire nella direzione giusta Ok Fino ad ora siamo passati di sopra Andando verso il forziere Proviamo ad andare da questa parte ora Vediamo dove finiamo Forse facciamo il giro e ritorniamo di nuovo alla rampa Vediamo C'è la luna gigante comunque No Ultima chiave Perfetto Fermo Ok Di qua non si prosegue Allora E che cavolo Ci manca solo un ultimo pezzo in pratica Vediamo se non mi fa Subito andare All'uscita Sai che forse si Appena ci avviciniamo lo fa in automatico I cancelli sono aperti No perfetto No Ah ok perfetto Voglio solamente controllare se c'è un ultimo forziere Non è detto però No aspetta Forzieri fatti Ottimo Ok Ultima zona Saliamo qua sopra Ecco qui E invece che andare dritti Andiamo a destra Lì ci sono un po' di bilancieri Niente di che Grazie Grazie Calmo Ecco fatto E qui Quelli da dieci A posto Possiamo andarcene ora Abbiamo ottenuto tutto ciò che volevo E ora Usciamo I cancelli sono aperti Andata Bel lavoro Spongebob e Patrick Questa è una ricompensa Una nuova mossa? Ah no la moneta giusto I'm a Goofy Goober Rocks McFries MYA La restored A A A A A A A A A Grazie per la visione!